Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, sono Raffaello88 e quest'oggi continueremo un nuovo gameplay con Zelda Majora's Mask. Allora, ecco dove siamo rimasti. Dobbiamo trovare una fata radiosa. A quanto pare non può far nulla contro la fata radiosa, ok. Proviamo a chiedere a sti bambini. Allontaniamoci dal cane che... Ok, via. Oddio, sto cane ce l'ha proprio con noi? No, indietro un po' li deposito a niente. Dove staranno sti bambini? Forse questo? Vediamo un po' se ci sa dire qualcosa questa guardia qua. Voglio sperare che sia di qua la fata radiosa. Vediamo un po' se... Se questi sanno qualcosa. Che ritardato, che è un sacco un bambino, forse ci può aiutare. Quindi nella parte nord della città, no? E allora mi sa che è di qua. Allora, proviamo ad andare alla sequestria est. Cronopoli sud. In teoria nord dovrebbe essere qui di fronte. Di qua dovrebbe essere. Oh, ovissi. Oh, ovissi. Grazie a tutti. Ok, vediamo un attimo la mappa, se mi do qualcosa. Niente. Allora. Vediamo un po' di qua dove possiamo andare. Si arriva a sto cavolo di nord, sud. Ah, qui cos'è? Ah, sì. Quindi ricordiamoci quando vediamo quest'aquile... Li salviamo, ok. Quando troviamo quest'aquile si può salvare. Ok. Allora, proviamo ad andare sopra qui. Forse è qua al nord, magari. Speriamo, perché non ho la più bellissima idea. Ecco, lo cronopoli nord. Forse è quella la fata. Vediamo un po'. Ah, un postino, vabbè, nulla di che. Allora, andiamo al cronopoli nord. E vediamo un po' di trovare questa cavolo di fata. Quanto pare è abbastanza difficoltoso trovarla, mi sa, eh. Vediamo un po' se sanno dov'è. Allora. Un polletto. Vabbè, non siamo proprio un folletto, eh. ma per me non c'è non c'è tanto ca' la testa questo, comunque vediamo un po' di trovare sta cavolo di farina per me non vorrei che è proprio qua, guardate se proviamo a fare questa cosa ecco qui chissà che non sia proprio qui la farina, chi lo sa scusate ma se io voglio questo è più un gioco a quanto pare, non è qua mi sa fontana fatale, allora è qui dai no cavolo mi sono sbagliato dovrebbe essere qui la fatina, forse eccola qua ecco qui ecco qui allora dobbiamo trovare l'ultima fatta sperduta chi non sa che sia proprio qua dietro magari tante volte, chi lo sa no, mi sa di no e allora proviamo a trovarla qua vediamo un po' cronopoli nord apriamo questa porta e vediamo cosa c'è residenza del sindaco ok, a quanto pare dobbiamo aspettare che finisce sta riunione quindi direi di proseguire qui invece cosa c'è? ok ecco la fatina ecco la flatina avro ecco qua, forse lo riusciamo a prendere da qui andiamo un po' perfetto, e adesso ce l'andiamo a riportare ok, l'abbiamo presa per culo, dico la verità perché manco me ne ero accorto che c'era cavolo, andate sotto e direi a questo punto ragazzi, prima di continuare e di vedere cosa succede quando ricongiungiamo l'ultimo pezzo della fada radiosa anche questo video può finire qua, se vi è piaciuto un pollicione in su iscrivetevi al canale se vi va e arrivederci al prossimo video ragazzi, ciao a tutti